Sì, sono sei gli indagati dalla Procura della Repubblica nell'ambito delle inchieste che sono scaturite in seguito al blitz di giovedì scorso al Comune. Quel giorno la Polizia Giudiziaria entrò a Palazzo del Pincio per prelevare documenti, anche se l'attività investigativa era partita molto prima con intercettazioni telefoniche e ambientali negli uffici comunali. Tra i nomi quello della dirigente del Comune Giglio Marrani, l'assessore al bilancio Emanuela Di Paolo, un vigile urbano e tre imprenditori. Il servizio. Arrivano i primi riscontri dopo il blitz che si è svolto giovedì scorso al Comune. Sono sei, almeno fino a questo momento, gli avvisi di garanzia arrivati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia e diversi i reati contestati. Nello specifico sono indagati il dirigente del Comune Giglio Marrani e l'imprenditore Mario Benedetti, che in concorso tra loro, mettendo in atto un reato di corruzione, avrebbero agevolato la concessione di un chiosco comunale all'imprenditore Simone Pagliarini, anche lui finito sul registro degli indagati. L'inchiesta si è occupata anche dell'affidamento delle luminarie natalizie, scrivendo nel registro degli indagati l'assessore al bilancio Emanuela Di Paolo, l'imprenditore Giampiero Firicano e il dirigente del Comune Marrani per turbativa d'asta. Secondo l'accusa, che dovrà però essere verificata nel prosieguo delle indagini, Firicano si sarebbe aggiudicato l'allestimento delle luminarie, nonostante fosse stata presentata un'offerta più conveniente da parte di un altro soggetto. Presunto abuso d'ufficio, infine per un altro indagato, il vigile Augusto Foschi. Secondo l'accusa, quest'ultimo si sarebbe introdotto negli uffici comunali in orario di chiusura, con le chiavi che avrebbe in dotazione, recandosi poi dove c'erano i documenti per il concorso per la polizia locale e fotografandoli con uno smartphone. Come detto, questi sono solo i primi riscontri, le indagini della procura vanno avanti e potrebbero portare ad ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Piena fiducia nell'operato della procura di Civitavecchia, altrettanta incondizionata fiducia in quello dell'assessore Di Paolo, persona di elevato profilo morale e professionale. Il sindaco Ernesto Tedesco interviene sull'inchiesta in corso dalla procura su alcune vicende legate alla pincio, con la notizia sui primi indagati. Fiducia altresì per il corretto lavoro degli uffici e dei dirigenti, sono certo di una soluzione positiva della vicenda, conclude il primo cittadino. E sulla vicenda arriva anche il comunicato della Lega di Civitavecchia. Ebbene, spiegano che chi opera per le indagini faccia il suo lavoro fino in fondo, questo dà sempre il pensiero della Lega. Detto questo, siamo certi della trasparenza degli atti e ancora più della statura morale del nostro assessore Emanuela Di Paolo, che ha la piena fiducia di tutto il partito. Non abbiamo dubbi sul fatto che tutto si chiarirà nei tempi e nei modi debiti. E' stato un anno ricco di avvenimenti di cronaca, quello che si sta per concludere. Si è partiti dal furto in casa, pochi minuti dopo la mezzanotte, e si è arrivati all'omicidio del professor Dario Angeletti, alle saline di Tarquinia, il servizio. Che sarebbe stato un anno speciale, lo si è capito già dopo, una manciata di minuti dopo la mezzanotte del primo gennaio 2021, quando una casa nel quartiere di Aurelia, lasciata incusturita dagli anziani proprietari per il classico cenone dell'ultimo dell'anno, e sarà svaliggiata da alcuni malviventi. Ma il 2021 è stato, Covid a parte, un anno ricco di fatti di cronaca. Era il 15 gennaio, quando a Largo Galli, al termine di una violenta lite con due persone, una coppia di fratelli civitavecchiesi, uno dei quali subito arrestato, mentre l'altro si era dato alla fuga per giorni, un 46enne era stato accoltellato, riportando diversi tagli al volto, uno sotto l'occhio e due più profondi alla testa. Il mese successivo, per la precisione il 10 febbraio, il giudice per le udienze preliminari Filocamo emette la sentenza sul caso, divenuto di rilevanza nazionale, dei falsi tamponi scoppiato all'ottobre 2020 con protagonisti, un cinquantenne di origini campane, operatore sanitario di una cooperativa di Anguillara, che avrebbe effettuato dei test a domicilio fingendosi un medico e la compagna OSS al San Paolo. La decisione, due anni e mezzo a Domenico d'Alterio e due alla compagna Maria Iodice. E sempre in tema Covid, è del primo marzo la notizia della ragazza, sorpresa dal proprio medico di base, a prendere un aperitivo con un'amica pur essendo positiva al virus. Dal 12 marzo l'intera città è stata in apprezzione per le sorti di Reina, una ragazza di 15 anni, scappata dalla Repubblica dei Ragazzi dove era ospite, di cui si è parlato per oltre un mese, anche nella trasmissione chi l'ha visto, anche per il coinvolgimento della strana figura del comandante Marcos, un uomo che ha ospitato la giovane e altre ragazze scappate da comunità e case famiglia. Nel tardo pomeriggio del 30 aprile, Davide Piccioni viene colpito violentemente alla testa durante una lite col trentenne Gennaro Gennarelli, viene dapprima trasportato al San Paolo, poi di fronte alla gravità delle condizioni trasferito con un'eliambulanza al Policlinico Gemelli, da dove uscirà dopo settimane. È stato invece per alcuni giorni un vero e proprio giallo, quello che ha riguardato Vittoria Federici, trovata misteriosamente morta in un appartamento di Viale Baccelli il 3 giugno. Dopo 10 giorni, il 16 giugno, scoppia il caso dell'RSA Santa Marinella, dove 17 persone, tutti infermieri e operatori sociosanitari della struttura, sono stati iscritti nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e falsità ideologica in atti pubblici. Il 23 giugno, Valerio Marras, il civitavecchese che due anni prima aveva ucciso la mamma Cristiana Roversi, viene ritenuto completamente non in grado di intendere di volere e assolto dalla Corte d'Assise, che prevede per il ragazzo il ricovero, per almeno 10 anni, in un ospedale psichiatrico giudiziario. Il 25 luglio è il giorno dell'immenso incendio alla Frasca, il 12 ottobre quello al Cona del Mare di San Gordiano. Sei giorni dopo, il 18 ottobre, finisce in tragedia una battura di caccia che si era tenuta nei boschi di Tolfa. Un 27enne, originario di Civitavecchia, spara e colpisce a morte un 42enne romano che si trovava nella stessa zona boschiva, a Poggio Finocchio. Il 18 novembre è il giorno della grossa fuga di casa a Via Novazzi, con tanto di sgombero di palazzi e chiusura delle luci cittadine e dei negozi per l'intero pomeriggio. Il finale d'anno è dedicato alla violenza sulle donne. Il 19 novembre un ristoratore viene arrestato per aver abusato di una sua dipendente, mentre il 10 dicembre un uomo viene arrestato per aver segregato e violentato la compagna per tre giorni. In mezzo, il 7 dicembre, il caso che ha avuto più risalto dell'intero anno, la morte del professor Dario Angeletti, ucciso a sangue freddo con un colpo di pistola, sparato all'interno della sua auto, dal 68enne Claudio Cesaris, per motivi di gelosia. Doppio appuntamento con Christmas in the clouds. Il primo si è tenuto nei giorni di Natale con l'associazione che ha consegnato panettoni e dolci messi a disposizione dalle pasticcerie cittadine. Il secondo è ancora in corso e si tratta di una lotteria che si concluderà il 6 gennaio e vedrà l'estrazione di te premi. Il terzo è una bicicletta mountain bike, il secondo è una cena per due persone al ristorante La Luna sul Cucchiaio, mentre chi si aggiudicherà il primo premio vincerà una cena stellata per due e per noto al ristorante La Pariolina Trevinano. I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sia contattando l'associazione, tramite le varie pagine social, sia contattando direttamente i responsabili. Tiziano Leonardo, un doppio appuntamento per la vostra associazione Christmas in the cloud. Uno si è già concluso, l'altro si concluderà tra poco il 6 gennaio. Cosa sono questi due appuntamenti? Quello che si è concluso, si è concluso appunto nelle tavole dei nostri amici che hanno avuto piacere ad acquistare i nostri prodotti che sono stati distribuiti da delle pasticcerie locali e non. Si parla di panettoni, di pregevolissima fattura che comunque insieme agli oggetti artigianali della Macuhood, degli stupendi oggettini in legno che sono stati appunto distribuiti sempre all'interno delle nostre conoscenze, delle nostre amicizie, del bacino di persone che comunque ci segue sempre, servono, arrivo al dunque, per ottenere dei fondi per proporre delle ecografie mammarie, degli screening, grazie anche alla competenza e alla disponibilità del centro diagnostico Bonarroti, destinati, e qua arrivo al dunque, alla fascia d'età tra i 25 e i 40 anni delle giovani donne che devono, e sottolineiamo appunto, devono prevenire appunto il tumore al seno. E questo è l'appuntamento che si è concluso. C'è un altro che si concluderà il 6 gennaio con una estrazione. Sì, perché appunto è una lotteria con tre premi e ringraziamo ovviamente la parolina di Trevinano e la luna sul cucchiaio per aver messo a disposizione delle cene, dei pernotti appunto per i vincitori di questa lotteria, e anche una mountain bike perché ricordiamo che fare un po' di attività fisica fa sempre bene. Quindi ancora c'è del tempo per prendere qualche biglietto, qualcuno è rimasto e buona fortuna a tutti quanti. Marco Cucinotta, siamo alla fine dell'anno, quindi anche tempo di bilanci per la vostra associazione. Com'è andata? E' andata molto bene perché tutto l'anno abbiamo tenuto iniziative, questo già è un fattore importantissimo, siamo partiti dalla maglietta della salute fino ad arrivare a una distribuzione di mele con una collaborazione con un'azienda nazionale addirittura, fino ad arrivare alla collaborazione con la Resifordecurre e Androsi Cirecchia, che abbiamo fatto un'iniziativa appunto qua a livello locale, fino ad arrivare a questa di Christmas in the clouds. Quindi il bilancio è sicuramente positivo, siamo riusciti a realizzare circa 100 visite con il Centro Uniano Sio Buonavrodi e ringraziamo anche il Dottor Cara Tarantino per la collaborazione. E adesso cerchiamo il prossimo anno di raddoppiare, di raddoppiare, di fare il massimo per soprattutto diffondere il messaggio della prevenzione al tumore del seno nelle giovani donne. Quindi siamo contenti dell'adesione della popolazione locale con le nostre iniziative e insomma puntiamo al massimo per il prossimo anno. E rilanciamo anche l'appuntamento fino al 6 gennaio? Rilanciamo perché ci sono ancora numeri a disposizione, fino al 6 gennaio potete contattare o i nostri volontari, che siamo anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si avvicinano alla nostra associazione, quindi contattando loro si possono prendere i numeri oppure tramite le nostre pagine social su Facebook e Instagram si possono richiedere i numeri. Oggi è il giorno della verità per il Civitavecchia. Questo pomeriggio alle 14.30 al Tamagnini in Erazzurri ricevono la visita del Pomezia nel recupero dell'ultima giornata d'andata che doveva giocarsi giovedì scorso ed è stata rinviata a causa di alcune positività nel gruppo squadra dei Pometini. Gara fondamentale in cui Ruggero e compagni che hanno solo un punto di distanza dagli avversari vogliono proseguire la striscia di sei vittorie consecutive con la possibilità di chiudere il 2021 in testa alla classifica. In caso di vittoria infatti il Civitavecchia potrebbe salire al primo posto scavalcando in un colpo solo Pomezia, V3 Maccarese e Favl Cimini con quest'ultima che ha due punti in più e recupera anch'essa oggi contro l'Ottavia. Nessun problema di formazione per il tecnico Massimo Castagnari che ritrova anche il giovane Gagliardi che ha scontato il turno di squalifica. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social Facebook, Youtube, Instagram inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it